Direttore Gigante, le malattie professionali in provincia di Taranto ci riferiscono numeri preoccupanti? Beh, abbastanza, perché se il dato degli infortuni è in diminuzione con tutte le specifiche del caso, noi registriamo a Taranto un aumento veramente considerevole. Il dato regionale è di circa 5.000 malattie professionali denunciate all'anno, il dato di Taranto sfiora i 2.000. Quindi sta a significare che Taranto, pur non essendo da sola, rappresenta una percentuale molto importante del fenomeno, il che naturalmente ci pone degli obblighi anche in termini di tutela e di impegno ulteriore dal punto di vista gestionale. E a cosa è riconducibile questo numero? Alla storia della città, a tutto ciò che ha interessato questa città nei decenni che ci hanno preceduto. È chiaro che questo dato va analizzato anche dal punto di vista sociale, ma in questo momento il tema principale è quello della tutela, garantire la migliore tutela ai lavoratori colpiti da malattia professionale. E quindi questo dato si inserisce nel quadro più ampio della sicurezza sul lavoro. Secondo lei creare un sistema, una rete che veda insieme le imprese, i sindacati, la società, gli enti, le scuole, che sono molto importanti e strategiche se vogliamo? Il tema della sicurezza è un tema che deve essere di patrimonio comune, non può essere una prerogativa dell'INA, delle aziende o solo dei sindacati. Questa è una battaglia che si vince o si perde tutti insieme. È chiaro che il coinvolgimento dell'opinione pubblica, delle scuole, della società, delle comunità è fondamentale per migliorare questo rapporto tra lavoro e lavoro sicuro. Grazie a tutti.